Mi chiamo Giorgio Chiellini ed ho scritto questo libro perché volevo che Chiellini raccontasse Giorgio. È l'avventura di un calciatore che ha raggiunto quasi tutti i suoi sogni. Nel libro parlo della mia infanzia, della mia famiglia, delle mie passioni e naturalmente di calcio, delle grandi partite che ho fatto e di quelle che mi aspettano. Gli ultimi mesi sono stati imprevedibili, per me particolarmente con prima l'infortunio al ginocchio, il lungo recupero e poi il coronavirus che ha sconvolto la vita di tutti noi. Io Giorgio è l'errore, c'è tanto passato, qualche segreto e tantissimo. Un abbraccio grande e ci vediamo in libreria dal 12 maggio. Grazie! Giorgio! Grazie per la visione!